Riscaldatevi per bene. Tra poco si entra in azione. Grazie per la visione. 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 UAPI nemico in volo. Grazie per la visione. 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 Vado qui. Grazie per la visione. 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 Ciao, ciao! in movimento 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. taglia a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. R gevVERCIO SILENCE. Fattie a tutti. Ha ritornato. Si, grazie a tutti. Ci arriva. Vi volevamo. Hoalystante i polmi. St authors Panda. SLF5. einige Pagni in rientro forzato. Bersaglio maglia identificato, fuoco su quel bastardo. Taglio, taglia, eliminato. Ben fatto! UAB, nemico, in volo! UAB, nemico! UAB, nemico! UAB, nemico! UAB, nemico! UAB, nemico, in volo! UAB, nemico, in volo! Contratto taglia identificato. UAB, nemico, in volo! Gassi in avvicinamento! Gassi in avvicinamento! Cambio posizione! Cambio posizione! Gassi in avvicinamento! гassi in avvicinamento! Ehi! Do you want it? Yep! bersaglio taglia eliminato ben fatto ben fatto gas in arrivo alla nuova zona sicura gas in arrivo alla nuova zona sicura gas in arrivo alla nuova Grazie a tutti. 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 Ne restano solo dieci. Grazie a tutti. No. 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 Oh, what a strike that is! What a brilliant goal there from Lazlo Benes! The Slovakian with the first shot of the game! And just the second ever performance league goal! It's very loose, really. And it's a full hit for Powelson. Yusuf Powelson, Big Jam, and Christopher and Kutu put Leipzig in front. And having worked so very hard for 40 minutes, Tribor have presented Leipzig with a game. I think he's going to get caught in two or three mines here and he doesn't know what to do and play the ball to the midline again.